La battaglia comincia! In attesa di istruzioni! Forza, nemiche all'orizzonte! Caccia in volo! In avvicinamento al bersaglio! Inganciamo un nemico! Caccia in volo! All stations requesting fire on the designated target. Caccia in volo! All stations, concentrate fire on the target. Bersaglio! 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 Buon appetito! In avvicinamento al bersaglio. Corazzata nemica affondata. Modalità pilota automatico attivata. La nostra squadra è in vantaggio. La nostra squadra è in vantaggio. In avvicinamento al bersaglio. La nostra squadra è in vantaggio. La nostra squadra è in vantaggio. Inganciamo un nemico. La nostra squadra è in vantaggio. In avvicinamento al bersaglio. La nostra squadra è in vantaggio. Destinazione raggiunta. Modalità pilota automatico disattivata. Modalità pilota automatico attivata. Bersaglio. 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 E' un attore nemico affondato! Caccia di ritorno! In avvicinamento al bersaglio! Caccia in volo! Ingacciamo il nemico! Porta aerei! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo! Caccia in volo!